Una buona serata e bentrovati ad Agenda Italia. Mettere a confronto e valorizzare esperienze di buon governo e creare una rete che dia slancio e protezione al ruolo delle donne nelle amministrazioni del Paese. Questo è stato il senso del primo forum nazionale delle amministratrici del Partito Democratico che si è svolto giusto una settimana fa ad Orvieto. Un appuntamento dove fra le altre cose si è parlato anche degli effetti della manovra economica sulla gestione degli enti locali e dove centinaia di amministratrici si sono confrontate mettendo in rilievo le migliori esperienze attuate da comuni, province e regioni proprio per rispondere ai tagli voluti dal governo. Sigla. Grazie a tutti. E allora una buona serata di nuovo, bentrovati ad Agenda Italia e di donne che parliamo in occasione di questo nostro approfondimento. Vi presento subito il nostro ospite, la responsabile conferenza donne del Partito Democratico, Roberta Costini. Buonasera, grazie. Buonasera. Si è accorta che abbiamo rubato qualche immagine al lavoro che aveva fatto qualche tempo fa. Allora, la conferenza di Orvieto, una settimana fa, molte centinaia di amministratrici si sono incontrate, lo ricordavamo in apertura, intanto ci racconta dal suo punto di vista come è andato questo appuntamento. È andato bene, è stato due giorni nella quale abbiamo discusso di moltissime cose, a partire appunto, come si diceva, degli effetti, dei tagli della manovra che il governo ha varato quest'estate sulle politiche locali e quindi, diciamo, su tutti quei servizi che sostengono spesso e volentieri la faticosa vita delle donne. e abbiamo anche messo a confronto punti di vista, esperienze, anche molto diverse tra loro, dall'amministratrice della piccola città del sud fino alla presidente della provincia di Reggio Emilia o al presidente di Regione. Insomma, è stato una due giorni, io credo, importante, molto proficua, sia per le donne che vi hanno partecipato, sia per la proposta politica che poi da quei due giorni è uscita. E noi poi questa sera vi faremo sentire anche alcune voci proprio di chi ha partecipato attivamente a queste due giorni di Orvieto. Per il momento invece vi mostriamo il primo filmato, filmato dalla nostra Maddalena Carlino, che ci racconta effettivamente queste 48 ore di lavoro ad Orvieto, il filmato. Combattere la crisi economica e promuovere la presenza femminile in politica, è questo l'obiettivo delle donne del PD. Un forum delle amministrateci per scambiare le buone pratiche che si fanno nelle amministrazioni governate dal centro-sinistra per rendere più forte l'esperienza di queste donne nelle amministrazioni locali e per rendere più forte la politica del PD negli antilocali. Penso che tocchi a noi ridare dignità a questo paese rivendicando la nostra dignità ma costruendo la dignità di tutta l'Italia. L'appuntamento ad Orvieto nel Palazzo dei Congressi ha preso il via da una scommessa. Le donne come volano di cambiamento, le donne come simbolo di rinascita, le donne come misura di forza. Noi siamo qui per dire alle nostre amministratrici, vi siamo accanto, non rassegnatevi, continuate a fare buone politiche sociali, buoni servizi sociali, buone politiche culturali per la scuola perché ne hanno bisogno gli italiani e nonostante questo governo nazionale voi dovete continuare a essere le istituzioni amiche dei cittadini e delle cittadine. Io sto lavorando a Roma per capire come possiamo introdurre una nuova aliquota un po' diversa per finalizzarla proprio ai servizi che aiutano le donne a vivere meglio, asili nido, mense, centri anziani, tutta la capacità di sostegno anche alle donne lavoratrici che purtroppo nella nostra povera Roma ormai è stata abbandonata. Dalle due giorni di Orvieto che prevede incontri e gruppi di lavoro parte innanzitutto il grido di allarme contro Italia e le amministrazioni locali vessate da una manovra finanziaria che vede i comuni solo come cassa a cui attingere. A pagare sono naturalmente i cittadini con il taglio dei servizi, asili nido, servizi sociali e trasporti. Insomma il governo mette le mani nelle tasche delle famiglie e dei servizi alla persona per questo bisogna ripensare le priorità e promuovere il rapporto tra donne e politica. Chiediamo l'introduzione della doppia preferenza di genere cioè che si può dare una preferenza sola ma nel caso se ne vogliono dare due le due preferenze devono essere di un uomo e di una donna. Questo ha dato dei risultati positivi per esempio in Campania. La regione Campania l'ha introdotta nell'ultima tornata elettorale e il numero della presenza femminile è molto aumentato. Insomma amministrazioni in rosa per un futuro migliore di tutto il paese. Allora questo è per appunto quello che è accaduto ad Orvieto otto giorni fa. Roberto Agostini, otto mesi fa la grande manifestazione a Roma ma in decine di città italiane se non ora quando. Dall'ora ad oggi secondo lei è cambiato qualcosa nelle coscienze delle donne? Quella è stata una grandissima manifestazione promossa dalle donne un comitato largo anche molto trasversale di persone diverse l'une dalle altre con diverse esperienze, diverse appartenenze politiche però alla quale hanno partecipato anche moltissimi uomini. Quindi una vera e grande manifestazione di popolo guidata dalle donne sulla base di un'ondata di indignazione politica diciamo rispetto a quello che stava accadendo il Presidente del Consiglio, l'uso e il commercio di corpi di giovani donne un Presidente del Consiglio indagato per prostituzione minorile ma credo anche un'ondata di indignazione provocata dalla condizione reale delle donne nel nostro paese che come sappiamo è l'ultimo paese in Europa per tasso di occupazione femminile, soprattutto le giovani generazioni studiano, si laureano di più anche dei colleghi uomini però poi pagano il prezzo di uno stato sociale che manca e di una condizione comunque molto molto difficile. Quelle donne hanno detto bisogna investire su di noi come una grande risorsa per il paese per uscire dalla crisi. Io penso che quella richiesta, quella aspettativa è stata non solo frustrata qualche otto mesi fa quando quella manifestazione è stata promossa ma il governo non l'ha raccolta ecco anzi si sono continuate a fare delle politiche pesantissime rispetto alle donne in questi ultimi mesi in questo lasso di tempo che ci separa da quella manifestazione è stato completamente ignorato il grido di indignazione e di dolore di quella piazza ma anzi tutti i provvedimenti compresa anzi in particolare la manovra di quest'estate hanno scaricato il peso della crisi sulle spalle delle donne dei giovani, dei precari e quindi hanno ricacciato di fatto ancora di più le donne a casa quando si tagliano i servizi quando la crisi la pagano in particolare gli antilocali le regioni con i miliardi di tagli che sono stati fatti nell'ultima finanziaria quando sono stati cancellati dal 2008 ad oggi praticamente quasi tutti i fondi sociali che erano i fondi che presiedevano l'offerta di servizi dal fondo per la non autosufficienza a quello per le famiglie a quello per le politiche sociali è chiaro che si fa una politica contro le donne in particolare contro le più giovani ma insomma non solo quindi è cambiato nel senso che io credo che la situazione è peggiorata con questo governo in questi mesi sta a noi, a noi Partito Democratico a noi forze dell'alternativa del centro-sinistra offrire una prospettiva concreta che sia una proposta fatta di elementi concreti di idee concrete che possono essere la leva che ci fanno che non solo rispettano i diritti e guardano le condizioni concrete di vita di queste donne ma che offrono anche una prospettiva di speranza un senso della politica così come dire, bistrattata e così messa sotto accusa in particolare in quest'ultimo periodo in particolare nel nostro paese Senta, allora possiamo fare un altro piccolo passo indietro perché abbiamo ricordato la manifestazione se non lo ricordo di febbraio il 31 maggio scorso il governatore di Banca Italia perché è governatore per queste ultimissime ore Mario Draghi durante la sua ultima relazione aveva detto leggo la scarsa partecipazione femminile al mercato del lavoro è un fattore cruciale di debolezza del sistema allora mi dice che cosa si può fare secondo lei per invertire questa tendenza concretamente cerchiamo di fare qualche esempio per far capire a chi ci sta seguendo non solo Draghi l'ha detto a maggio ma qualche giorno fa qualche settimana fa di nuovo Banca Italia ha fatto un convegno nel quale tra l'altro ha invitato la ministra Carfagna e ha detto questa cosa cioè che il raggiungimento dell'obiettivo di Lisbona il 60% delle donne occupate soprattutto in un momento come questo significherebbe una crescita del 7% in più del PIL e Anna Maria Tarantola ha ridetto ha risottolineato il fatto che appunto più donne al lavoro significa abbattere anche i tassi di povertà nel nostro paese che come sappiamo dall'ultimo rapporto Caritas sono in crescita rispetto agli anni passati ma significa anche come dire aumentare la massa fiscale previdenziale e fare quelle riforme che come dire moltiplicano i posti di lavoro perché è necessario investire in servizi quindi noi diciamo da questo punto di vista abbiamo presentato diverse proposte di legge in Parlamento molte sono le proposte che abbiamo discusso anche nelle nostre assemblee nazionali e nella conferenza nazionale delle donne e ci apprestiamo a promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare che contiene alcuni punti fermi che io credo debbano essere le nostre priorità e sono un pezzo della nostra strategia della crescita anzi io direi che sono il cuore della strategia del Partito Democratico per la crescita un piano straordinario per gli asili nido in alcune regioni soprattutto a sud Italia è una rarità trovare un posto in un asilo nido trovare un servizio per l'infanzia quindi piano straordinario per gli asili nido investire e questo come dire crea ricchezza perché aumenta i posti di lavoro sia per chi costruisce gli asili nido sia per chi viene impiegato nei nidi un sostegno universale alla maternità siamo il paese che non solo ha il più alto tasso di disoccupazione femminile ma anche ha il più alto indice di denatalità cioè da noi i bambini praticamente non nascono quasi più quindi far diventare la maternità un valore in un paese dove ormai le donne sono costrette a scegliere tra la famiglia e il lavoro tra la maternità e l'impiego e quindi diciamo aumento delle tutele anche per le lavoratrici precarie della maternità fissazione di un periodo di 15 giorni di congedo paterno obbligatorio alla nascita dei figli perché il lavoro di cura va anche condiviso cioè uno dei problemi dell'Italia anche nel panorama europeo è che le donne hanno il maggior numero di ore di cura lavorate cioè il lavoro di cura non si divide tra uomini e donne in maniera uguale in questo paese in altri diciamo va meglio un po' di più si collabora di più si collabora di più e poi diciamo la leva delle detrazioni fiscali per le donne con figli che lavorano e che è uno strumento che diciamo tutti gli insomma è utile per sostenere l'occupazione femminile perché noi sappiamo che l'occupazione femminile crolla la nascita del primo figlio quindi incentivare anche economicamente le donne che hanno figli a rimanere nel posto di lavoro dando diciamo un sostegno in termini di detrazione è utile anche per sostenere il tasso di occupazione femminile che appunto tutte le statistiche ci dicono che crolla la nascita del primo figlio Perfetto, benissimo fra l'altro prima mi sono sbagliato oggi è primo novembre da oggi Mario Draghi è il nuovo presidente della Banca Centrale Europea quindi gli facciamo i migliori auguri ed in bocca al lupo allora Roberta Agostini torniamo alla conferenza di Orvieto perché fra i tanti anzi fra le tante che hanno partecipato c'era anche il presidente del Partito Democratico Rosi Bindi ha parlato di tante cose allora vediamo il prossimo filmato Presidente cosa si sente di chiedere di individuare come primo elemento che servirebbe oggi alle donne? un paese accogliente che ne comprendesse fino in fondo il valore il talento la dignità esattamente tutto il contrario di quello che ha fatto questo governo che continua a fare questo governo in tutte le sue scelte quelle che riguardano le regole la democrazia le politiche sociali le politiche economiche soprattutto per essersi reso responsabile soprattutto attraverso il presidente del consiglio di un indebolimento etico civile della vita del paese e quindi penso che tocchi a noi ridare dignità a questo paese rivendicando la nostra dignità ma costruendo la dignità di tutta l'Italia le donne e la politica che cosa va cambiato innanzitutto gli aspetti quantitativi solo se saremo di più riusciremo a cambiare la politica è una lezione che non impara nessuno è una lezione dura difficile non possiamo pensare mai che qualcuno ci regalerà qualche cosa basta che ci distraiamo un attimo che succede quello che è successo in Molise e quindi dobbiamo assolutamente stare molto attenti anche perché si avvicinano le elezioni e io credo che quella sarà l'occasione nella quale potremo affermare innanzitutto una presenza maggiore delle donne se saremo di più si riusciremo anche a imporre alla politica un passo diverso una qualità diversa una presenza diversa nel paese l'Italia è pronta a un presidente del consiglio donna? ma sembrerebbe di no o quantomeno non lo so la politica non so se è pronta a capire se il paese è pronto e quindi è un pasticcio c'è incomprensione direi di sì allora così il presidente del partito democratico Roberto Agostini allora chiedo anche a lei è pronta l'Italia per avere un presidente del consiglio donna sarebbe un bel segnale no? io penso che diciamo la politica deve mettersi in sintonia con il paese e penso che il paese sia abbastanza pronto siamo pieni di sondaggi commissionati da varie agenzie che ci dicono che i cittadini hanno fiducia in una politica dove ci siano più donne che alle donne viene riconosciuto una maggiore concretezza una maggiore attenzione diciamo alla qualità della vita una maggiore onestà insomma maggiore propensione ad accordi insomma credo che maggiore trasparenza e penso che gli italiani questo lo percepiscano lo sappiano ci vuole una politica che si apra che sia più aperta rispetto a queste a queste esigenze senta mi dice una cosa secondo lei da questo punto di vista il partito democratico ha fatto abbastanza o avrebbe potuto in questo periodo fare di più ogni volta che per esempio salta fuori la discussione su quote rosa non quote rosa in che percentuale la trova da donna è offensiva oppure no? no io penso che il partito democratico abbia fatto dei passi avanti è sicuramente il partito diciamo più avanti su questo terreno nel panorama politico italiano basti leggere diciamo magari mettere a confronto gli statuti dei diversi partiti per capire che il PD è fortemente innervato sin dalla sua nascita da una cultura politica delle donne e da un'esigenza di democrazia paritaria poi diciamo c'è tutto il terreno concreto della politica quotidiana del farsi giorno per giorno e del rispetto delle regole e di quella che è una battaglia come dire di avanzamento che insieme donne e uomini certamente dobbiamo fare e le battute d'arresto sono sempre dietro l'angolo come ricordava prima la Presidente Bindi la vicenda del Molise ci insegna quindi però per questo io penso che noi abbiamo bisogno insomma delle regole che in qualche modo abbiamo anche fissato nello statuto c'è bisogno di leggi elettorali più amiche delle donne da questo punto di vista si ricordava anche nel filmato il tema della doppia preferenza di genere che in alcune regioni ha dato risultati importanti e poi c'è bisogno di cultura politica e di un progetto politico dentro il quale le donne siano riconosciute cittadine a pieno titolo di un progetto politico delle donne che come dire si affermi nella società italiana che io credo abbiamo cominciato un po' a delineare anche questo che ancora non abbiamo un anno di nascita come conferenza delle donne però in questi primi mesi di lavoro comune che abbiamo cominciato a fare insieme allora io leggo adesso che cosa ha scritto una parlamentare della ex maggioranza PDL attuale parlamentare di future libertà che è Flavia Perina immagino che la conosca piuttosto bene ha detto le donne in Parlamento come nel paese devono provare ad agire una buona volta come soggetto unitario sostenendo senza dividersi proposte e riforme nell'interesse di tutte allora immagino sia d'accordo le chiedo è possibile oggi quello che la Perina auspica? Secondo me la Perina può dire queste cose perché credo che con la Perina insomma abbiamo in comune il cammino della costruzione di se non ora quando del comitato nazionale credo che lei abbia ragione quando dice identifichiamo alcuni obiettivi anche in modo trasversale unitario anche tra donne diverse per quelli ci battiamo nei rispettivi partiti nella società in comitati in associazioni credo che questo sia possibile poi non non aggregheremo tutte le donne però il senso della manifestazione del 13 febbraio forse in fondo è proprio questo cioè che intorno ad alcuni obiettivi la dignità femminile il riconoscimento del ruolo delle donne nella società si sono aggregate forze molto diverse tra loro io insomma in piazza hanno parlato dalla suora appunto alla buongiorno insomma persone con esperienze con storie diverse ha visto molte parlamentari del PDL in Roma? no ecco parlamentari del PDL quel giorno non ne ho viste quindi secondo me appunto non saranno tutte le donne però ci sono donne diverse che in base ad un progetto noi possiamo e dobbiamo essere in grado di aggregare per parlare poi alle donne italiane anzi a me ha fatto molto impressione il fatto che qualche settimana dopo la manifestazione del 13 febbraio le donne del PDL guidate un po' dalle parlamentari abbiano sentito l'esigenza di convocare una loro manifestazione a Roma all'auditorium della tecnica quasi per difendersi da quelle che erano andate in piazza il 13 febbraio e per difendere sostanzialmente il loro Presidente del Consiglio e la loro esperienza di governo che era chiaro che era messa radicalmente sotto accusa in qualche modo anche se non esplicitamente nella manifestazione del 13 cioè il 13 nessuno ha chiesto esplicitamente nell'appello le dimissioni però era chiaro che c'era una critica profonda di senso di valore di collocazione a quello che questo governo esprimeva ed esprime e quindi è chiaro che le donne della PDL si sono sentite come dire messe sotto accuse e abbiano pensato di convocare una loro iniziativa una loro manifestazione peraltro molto molto difensiva io credo per nulla diciamo dialogante ovviamente ma anzi molto molto sulla difensiva e molto sulla difesa del Presidente del Consiglio Senta sabato prossimo il 5 di novembre a Roma 14.30 a Piazza San Giovanni ci sarà questa grande manifestazione del Partito Democratico si aspetta di vedere molte donne? Sì beh sì cioè può essere un'occasione per ritrovarsi? Sì io credo che le donne quando c'è da combattere una battaglia politica ci sono lo abbiamo visto per esempio alle amministrative le ultime amministrative in fondo il riconoscimento che molti dei sindaci eletti del centro-sinistra hanno dato con le giunte al 50 stiamo vedendo fra l'altro il volantino della manifestazione sabato prossimo sì con le giunte composte al 50 e 50 sia stato frutto anche del fatto che tantissime donne si sono molto impegnate nella campagna elettorale hanno risposto a quell'appello di innovazione di cambiamento che veniva dai nostri candidati i candidati sindaci e le giunte composte al 50 e 50 non sono state un fatto burocratico ma sono state davvero una risposta di innovazione all'impegno di tantissime donne quindi io credo che in tutti i grandi momenti di cambiamento di passaggio di apertura e di innovazione le donne sono state e sono protagoniste il tema è come la politica guarda a questo protagonismo e quali risposte dà sia in termini di apertura sia in termini di progetto sia in termini di proposta politica cioè se è un protagonismo che spaventa oppure no esattamente in qualche modo va bene perfetto molto chiaro allora ritorniamo alle donne di Orvieto e quindi alla discussione di una settimana fa proponendovi un'altra testimonianza è quella del sindaco di Rosarno Tripodi vediamo e no ci sono evidentemente dei problemi che risolveremo quanto prima mi dice una cosa Roberta Agostini come è possibile conciliare il desiderio di diventare madre con quello ad esempio di realizzarsi nell'ambito lavorativo e fare anche carriera magari è molto difficile tant'è che la maggior parte delle donne è costretta spesso a scegliere abbiamo il più basso tasso di natalità come dicevo pochissime donne ai vertici delle carriere di molte professioni anche di quelle più femminizzate io ho letto che l'occupazione femminile in Italia è ferma al 46% 20 punti in meno rispetto a quella maschile e siamo tra le medie più basse rispetto agli altri paesi europei forse questo si collega a quel discorso perché secondo lei questa situazione appunto perché c'è una grande difficoltà delle donne di conciliare carriera e famiglia perché quel tasso di occupazione è così basso perché prende in considerazione le donne che lasciano il lavoro alla nascita del primo figlio perché se guardiamo invece ad una fascia di donne senza figli vediamo che l'occupazione insomma non ha quel divario l'occupazione femminile non ha quel divario con quella maschile quindi c'è un problema enorme in termini di servizi di modello dello stato dello stato sociale c'è un problema come dire anche di cultura anche nelle professioni estremamente femminilizzate femminili insomma pensiamo all'università dove la maggioranza delle laureate è donna poi dopo quando sali ai vertici della carriera i rettori si contano sulle dita forse di due mani di una mano oppure anche a tutto il mondo della sanità dove lavorano moltissime donne poi mano a mano che si sale primari oppure direttori generali le donne sono sempre molto poche quindi c'è un problema di struttura come dire del nostro stato sociale c'è un problema di cultura forse anche diciamo del lavoro del modello lavorativo per cui fa più carriera magari chi rimane a lavorare 12 ore al giorno senza che ci si preoccupi del risultato piuttosto che appunto guardare al merito i problemi sono tanti sono diversi e le soluzioni io credo che debbano essere per forza diciamo articolate il primo punto ripeto è puntare sull'innalzamento del tasso di occupazione femminile e poi anche possono esserci delle ricette tipo quelle della legge recentemente approvata in Parlamento delle quote rosa nei consigli di amministrazione per cui per legge si impone che una quota che una presenza femminile del 30% ci debba ci debba essere anche perché appunto dicono tutti gli studi l'ha detto da ultimo Banca Italia le imprese che hanno un management misto funzionano meglio danno risultati migliori perfetto allora l'avevamo annunciata il sindaco di Rosanno anche lei una settimana fa a Orvieto vediamo il filmato lei incarna un po' una serie di problemi il problema del sud il problema degli enti locali con tanti tagli il problema delle donne com'è gestire tutta questa serie di problematiche qual è diciamo il primo intervento da fare la prima richiesta che dovrebbe poi essere risolta dal governo il governo dovrebbe smetterla di pensare agli enti locali come semplicemente degli enti spreconi perché in tutti questi anni gli enti locali hanno contribuito invece al risanamento della finanza pubblica mantenendo gli obiettivi economici che erano stati fissati rispettando il patto di stabilità e tutto quello che era previsto però bisogna che si renda conto che gli enti locali sono i primi interlocutori dei cittadini e devono dare delle risposte quindi non semplicemente spostando i problemi dal governo nazionale agli enti locali e che si dice che la pressione fiscale non aumenti invece noi ci troviamo di fronte a situazioni di far quadrare i bilanci praticamente con niente e ciò rende difficile dare dei servizi ai cittadini in un momento in cui la crisi economica li sta colpendo duramente Com'è la situazione oggi nel comune di Rosarno? Il comune di Rosarno sta ricominciando finalmente ad avere una voce ad avere neri scontri anche nell'operatività di tutti i giorni è un'amministrazione che si è insediata da dieci mesi che si è trovata di fronte a risollevare la propria immagine in seguito ai fatti della rivolta e degli immigrati a un problema quello dell'immigrazione che comunque stiamo fronteggiando ancora da soli con le nostre forze del nostro comune con interventi sporadici da parte degli enti esterni e con una presenza sfissiante della criminalità organizzata che cerchiamo di combattere per quello che è possibile per il ruolo che ci compete cioè facendo rispettare quelle che sono le regole Per quanto riguarda le cittadine donne che vivono in un comune come quello di Rosarno che cosa chiedono a un comune? Le donne chiedono più servizi chiedono servizi per i propri figli chiedono delle scuole che funzionino chiedono delle menze chiedono i trasporti scolastici chiedono spesso anche dei contributi economici però la cosa che mi viene più spesso chiesta in questi mesi è quella di avere un lavoro il problema del lavoro è la grossa emergenza del sud emergenza sia non solo per le donne che per la maggior parte non lavorano infatti la Calabria ha il più basso tasso di occupazione femminile ma anche per gli uomini per gli uomini e per i giovani circa il 50% di loro oggi è disoccupato c'è un grande un grande grido di dolore che giunge dalla mia terra sicuramente se ci fossero più finanziamenti più fondi quindi la prima cosa da fare sarebbe quella del lavoro? credo che sia la prima emergenza lavoro occupazione giovanile occupazione femminile perché solo rilanciando l'occupazione femminile e l'occupazione giovanile si può pensare di uscire dalla crisi le donne e la politica perché promuovere una maggiore presenza femminile? io credo che le donne oggi ispirino più fiducia nel cittadino questo è stato anche il risultato della sfida a cui mi sono prestata nel nostro consiglio comunale oggi sono presenti 5 donne su 20 consiglieri è stata una svolta storica e credo che stiamo dando un'impronta e un approccio diverso al modo di rapportarsi con il potere e con la gestione della cosa pubblica i cittadini sentono la differenza? io penso di sì perché più facilmente si confidano con una donna è una questione di empatia è una questione di trovarla più alla stessa altezza senza grosse gerarchie io in genere ricevo tutti senza filtri e sto ad ascoltare anche delle storie personali che forse poco possono centrare con quello che un sindaco può fare molto spesso la gente viene solo per essere ascoltata chiedere aiuto e avere una parola di conforto è un po' come se fosse una chiesa un po' come se fosse la chiesa questo era il sindaco di Rosarno che salutiamo la dottoressa Tripodi parole molto interessanti una testimonianza importante che quest'oggi abbiamo portato dentro al nostro approfondimento diceva il sindaco le donne poi sostanzialmente ispirano più fiducia questo è anche poi un po' il senso di tutta questa nostra discussione Roberta Agostini sì le donne ispirano più fiducia anche perché appunto secondo me vengono viste un po' come outsider rispetto a un sistema politico consolidato e sappiamo anche diciamo che la sfiducia dei cittadini verso i partiti verso la politica verso le istituzioni sta raggiungendo in questa ultima fase insomma delle percentuali molto elevate quindi puntare di più sulla sulle donne su una rappresentanza femminile credo che possa avere dei risultati positivi anche nel ricreare quel legame di fiducia e di partecipazione dei cittadini verso la politica verso le istituzioni e poi sì poi ci sono degli aspetti umani che adesso Elisabetta ricordava ma secondo me si confidano con lei perché lei è una persona insomma per come l'ho conosciuta assolutamente attenta e assolutamente vicina insomma all'aspetto umano ecco quindi credo che facciano bene da avere fiducia Roberta Cosini lei da quanti anni lavora nel mondo della politica? Dunque da un po' da un po' perché io sono ho respirato la politica fin da piccola non sono una che è entrata in politica per usare questa espressione terribile che diciamo si sente troppo spesso riecheggiare sulla bocca dei politici e faccio politica da insomma da quando ero a scuola poi ho fatto politica è facile mettere tutto quanto insieme la famiglia il figlio un marito e poi il lavoro beh sì cioè ha visto più facilità nei colleghi maschi? sì sicuramente è più facile per i colleghi maschi sicuramente è più facile le donne anche quando fanno politica anche quando fanno politica insomma a vertici elevati pensano comunque hanno sulle spalle il peso del lavoro di curo comunque la preoccupazione del lavoro di cura dell'organizzazione della giornata della famiglia della spesa dei figli credo che in questo senso che questo sia proprio un fatto oggettivo e siamo anche credo che insomma di dirlo con una certa sicurezza che le donne per quella che è la mia esperienza sono anche più capaci di gestire contemporaneamente situazioni diverse non c'è dubbio sottoscrivo diciamo tutto questo proprio forse per questo carico mi dica una cosa il sindaco di Potti diceva la condizione delle donne in Italia è difficile ed è molto più difficile quando poi sono donne che vivono nel sud d'Italia noi qualche tempo fa abbiamo ad esempio parlato della tragedia di Barletta il crollo di quella palazzina che ha investito e ucciso quattro lavoratrici più una quinta giovanissima che era poi la figlia del titolare di quella di quella maglieria ecco tornando a quelle immagini e a quel dramma lei da donna che impressione ha avuto rispetto a tutto quello che stiamo dicendo oggi lì si parlava di donne pagate meno di quattro euro costrette ad accettare situazioni spesso al limite proprio che si può fare secondo lei anche lì perché poi è una situazione che riguarda il mezzogiorno ma non solo noi siamo stati in delegazione quel pomeriggio i funerali delle donne uccise e devo dire che si respirava veramente un'aria di tragedia di tragedia di disperazione insomma io credo che sia veramente inaccettabile che delle donne possano morire per lavorare per 4 euro e 95 euro l'ora insomma in condizioni totali di insicurezza di illegalità e se penso insomma a quello che lì è successo mi viene in mente che quello è proprio il simbolo della condizione di quelle di quelle terre che poi riguarda il sud ma riguarda anche per certi versi grandi parti del nord del nord Italia quelle erano terre barletta che negli anni passati avevano anche conosciuto un grande sviluppo economico soprattutto nel settore del tessile molti imprenditori insomma avevano dato lavoro si erano arricchiti a tanta gente e adesso è una situazione che diciamo un po' ridotta nei termini che emergono dai servizi anche dai giornali che si sono fatti su quella vicenda lì c'è diciamo il simbolo e c'è ci sono incrociate intrecciate insieme diverse diverse questioni appunto il lavoro nero il fatto che c'è una concorrenza in termini di compressione del costo del lavoro che ci viene dai paesi emergenti queste donne che in molti hanno detto meglio un lavoro qualsiasi e non il non lavoro il fatto di essere costretti a lavorare perché si parla di essere costretti a lavorare in condizioni di questa natura io credo che il primo punto sia davvero un grande piano per il lavoro dei giovani e delle donne appunto a partire dal sud d'Italia che investa in quelli che in molti chiamano i beni comuni appunto lo stato sociale i beni di relazione e credo che quella tragedia testimonia del fatto che il lavoro la dignità del lavoro le condizioni del lavoro il fatto che il lavoro in questi anni è stato messo ai margini come concetto ai margini dello sviluppo è diventato una variabile dipendente in qualche modo da altri e la necessità di invertire la rotta rispetto a quello che è successo in questi anni quindi noi abbiamo detto una serie di cose come il Partito Democratico una serie di proposte combattere la precarietà del lavoro dicendo che un'ora di lavoro precario non può costare meno di un'ora di lavoro a tempo determinato rimettere appunto al centro il tema della dignità delle condizioni di lavoro e investire in un grande piano per il sud e per i giovani noi questo fine settimana saremo a Napoli a sud con un progetto di formazione per circa 2000 giovani meridionali un progetto di formazione politica dei quali un 50% insomma o giù di lì saranno donne perché abbiamo voluto anche lì una democrazia paritaria anche per un corso di formazione si deve anche ripartire dalla costruzione di una classe di dirigente per dare un segnale di speranza e di futuro alla terra senta un'ultima domanda prima dei saluti per tornare ai temi economici anche dell'incontro di una settimana fa a Orvieto ma può un paese che non cresce demograficamente come l'Italia crescere economicamente secondo lei? Secondo me no cioè secondo me la crescita demografica è uno degli ingredienti poi della crescita e dello sviluppo quindi penso che ci sia il problema della natalità e del sostegno alle famiglie che va inteso anche come uno dei tasselli fondamentali dello sviluppo economico e della crescita del paese e poi non c'è diciamo crescita economica senza la crescita delle persone senza come dire uno stato sociale in grado di garantire un investimento sulla capacità delle persone una pari dignità una pari opportunità noi assistiamo in questi giorni in queste ore ad una proposta del governo che riguarda che è la delega fiscale ed assistenziale il governo diciamo dopo aver azzerato praticamente tutti i fondi per le politiche sociali aver tagliato gli enti locali adesso si appresta a fare cassa sottraendo circa 20 miliardi al capitolo dell'assistenza nel nostro paese e questo significa praticamente tagliare le gambe alla fascia più povera della popolazione italiana tagliando le pensioni di reversibilità tagliando l'assegno di accompagno e le pensioni di invalidità quindi questo secondo noi significa diciamo dare un colpo non solo ai diritti delle persone ma dare un colpo anche diciamo alla possibilità di uscire dalla crisi perché se questa crisi ha anche diciamo si è anche fondata su un aumento delle disuguaglianze così come sono andate avanti in questi ultimi 15 anni aggravarle tagliando diciamo l'unico pezzo di welfare state che è connesso con i trasferimenti monetari significa anche aggravare le condizioni del paese farlo ancora di più avvitare in una spirale che è recessiva oltre che ingiusta quindi senza la crescita delle persone senza uno stato sociale in grado di garantire la promozione le varie opportunità come dire l'affermazione delle persone in un contesto sociale noi crediamo che non ci sia neanche la crescita e lo sviluppo del paese se noi non diciamo rilanciamo pur nelle necessarie riforme perché sappiamo bene che la legge 328 del 2000 in molte parti è rimasta inattuate in altre parti ha bisogno di essere rivista per le transizioni per la transizione demografica per le emergenze sociali che sono intervenute nel frattempo eccetera quindi riformare sì lo stato sociale ma non ma non tagliarla senza questo io credo che il paese rischia noi crediamo che il paese rischi rischi di grosso e allora noi per il momento ci fermiamo qua Roberta Costini grazie per essere stati con noi buon lavoro a presto per quanto riguarda Genitalia è tutto una buona serata e arrivederci grazie grazie